Il comunicato diffuso dai commissari straordinari dell'AMIA non lascia spazio a dubbi. I vertici della ex municipalizzata oggi sulla via del fallimento parlano di comportamento da stigmatizzare perché degli operai che ieri avrebbero dovuto garantire il turno sia pure ridotto della domenica nessuno si è presentato al lavoro. Una stensione di massa che non è passata inosservata soprattutto perché la situazione dal centro alla periferia di Palermo è ben oltre il limite, con marciapiedi ridotti a discariche, cattivo d'oro ovunque. Un comportamento che aiuta le facili strumentalizzazioni, scrivono i commissari che sulle assenze di ieri aggiungono di avere avviato verifiche contrattuali. Intanto, mentre i dipendenti della società si preparano a nuove proteste di piazza e il sindaco di Palermo Orlando vola a Roma, si torna a discutere dell'emergenza percolato. La nave ferma al porto di Palermo e che avrebbe dovuto trasportare almeno 3.000 tonnellate di percolato a Olbia sulla base di un accordo poi saltato, in realtà è vuota e non partirà. Il percolato di Bellolampo invece dovrebbe prendere altre vie. Una parte sarebbe destinata infatti ad una società calabra, la IAM di Gioia Tauro, tre camion cisterna sono in partenza in queste ore, mentre un altro quantitativo del liquido inquinante sarebbe destinato ad un altro impianto di trattamento, questa volta nella zona industriale di Catania. Dello smaltimento del percolato, il residuo liquido che si deposita sul fondo delle vasche in discarica, si occupa l'assessorato regionale all'energia. Trasferimento e smaltimento, spesso fuori dalla Sicilia, hanno costi elevati. Basti pensare che l'accordo con la società sarda, poi saltato anche per la bagarra scoppiata nel Consiglio Comunale di Olbia, sarebbe costato un milione di euro.